Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria, il momento difficile non è alle nostre spalle ma ancora davanti a noi. C'è preoccupazione nelle parole del governatore Vincenzo De Luca che ieri ha incontrato il ministro della Salute Speranza e il commissario Arcuri evidenziando la necessità di personale medico. Intanto l'ultimo bollettino parla di 757 positivi nella giornata di ieri. Focus anche in provincia, Torre del Greco, aumentano i contagi. A Dercolano i cittadini intervistati da TV City si dicono preoccupati e chiedono maggiori controlli. Spazio poi anche alla cronaca con l'operazione antidroga della Guardia di Finanza che al porto di Napoli ha sequestrato oltre 130 chili di hashish e arrestato due persone. Continua il viaggio nel mondo della scuola. Abbiamo fatto di un momento difficile la nostra sfida. La dirigente dell'istituto Falcone Scauda di Torre del Greco in un'intervista a TV City ha ricordato i momenti difficili del lockdown. La nostra comunità è pronta ad affrontare un anno scolastico complesso. Spazio anche all'iniziativa e una raccolta fondi per aiutare i randaggi. È l'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Rotaract Club Torre del Greco Comuni Vesuviani in programma domani. Infine trasferta il bisceglie mister Fabiano si prepara a schierare la stessa formazione dei precedenti incontri. Questo è molto d'altro. Guardiamo i servizi. Abbiamo bisogno di tutte le forniture fondamentali per combattere l'impennata dei contagi. È la richiesta che ieri il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha esposto durante l'incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il commissario Domenico Arcuri. Nel corso del meeting si è fatto il punto sulla situazione Covid che in Campania diventa sempre più critica. Nella giornata di ieri si sono registrati ben 757 casi positivi. Le decisioni prese sono pienamente rispondenti alle esigenze della campagna e all'obiettivo di garantire la sicurezza per i nostri concittadini. Si è deciso, quindi, di seguire con continuità l'evoluzione dell'epidemia, in un rapporto di collaborazione stretto con il ministro della Salute e il commissario delegato, ha affermato De Luca. Il numero elevato di contagi registrati vede una grande prevalenza di asintomatici destinati quindi all'isolamento domiciliare, ha continuato il governatore. Ma questo richiede l'impegno straordinario di personale medico-infermeristico per seguire i pazienti nel periodo di isolamento. Il presidente della regione ha deciso di chiedere alla protezione civile la messa a disposizione, nei tempi più rapidi possibili, di personale medico e infermeristico volontario. Il momento difficile del Covid-19 non è alle spalle. È ancora davanti a noi. Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio, ha concluso De Luca. Assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine e paura per una nuova possibile ondata di contagi. Questa mattina le telecamere di TV City sono state a Tercolano, dove i cittadini hanno commentato gli ultimi dati della regione Campania. Situazione Covid-19. Aumentano i contagi nella regione Campania. Ha paura? Altro che se ho paura. Lo dimostra la mascherina che sto portando. Purtroppo non è solo la Campania, ma anche il Napoli, il Napoletano, ma la Campania è intera. Io vengo da Salerno e siamo su peggiori stesse condizioni. La paura ci sta. Crede che la sanità campana sia all'altezza di reggere un'eventuale seconda ondata? Avete, abbiamo la fortuna di avere un buon presidente. Lei fa un appello al buon senso dei cittadini? Certamente, ma anche alle forze dell'ordine, che a volte trascurano. Se vedo vigili che se ne fregano, carabinieri che passano con le macchine e non si fermano davanti alle persone che non hanno le mascherine, è un bacione. Situazione Covid-19. In Campania aumentano i contagi. Lei ha paura? Io no. Non ho paura. E quindi crede che la sanità campana sia all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? Sì, sì. Pensati sì. Dobbiamo fare quello che dice il governo. Loro ci dirigono e noi dobbiamo eseguire. Lei ha fiducia nell'operato del governo e in particolare nell'operato della regione Campania? Sì. Sia quello di De Luca sia quello del premier Conte. Abbiamo tanta paura. Crede nell'operato del governo nel contenimento del contagio? No. Non credo. E la sanità campana sarebbe all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? No. Io a dire la verità sì. Sì, per i bambini, per i miei nipoti, per i miei figli, per l'altra gente, per tutti. Perché tutti sanno, politici, medici, tutti, ma nessuno non ha mai detto la verità. Crede che la sanità campana sia all'altezza di sofferire ad un'eventuale seconda ondata? Questo sì. Questo sì. Ci credo molto. Quindi crede nell'operato del governatore De Luca? Sì, perché ha saputo gestire la prima e penso che sia capace anche di gestire la seconda. Il contagio è aumentato il giorno per giorno. C'è il porto, c'è quando sono abletti 50-60, c'è fino ad un istituto che sono tutti contagiati, sia i medici che le persone. E in Arcolano pure lo stesso ce ne sono tanti. Crede che la sanità campana sia all'altezza di sopperire ad un'eventuale seconda ondata? No, no, non c'è, non c'è perché la regione campana qua a livello sanitario siamo proprio rovinati, ma rovinati al 100% qua. Non è come il nord, che ci sono regioni del nord che la sanità è migliore. Aumentano i contagi. Lei ha paura? Molto. Devi pensare che mia figlia ha rimandato un matrimonio tre volte e adesso stiamo ancora che giovedì si deve sposare e non si sa. Perché il Presidente ha detto che entro quattro giorni se va avanti così chiude tutto. E noi che dobbiamo fare? E lei teme un secondo lockdown? Sì, temo perché in questa estate è stata tante di quelle cose che nessuno si è stato attento. Tutti hanno fatto le loro cose, tutti se ne sono andati per i fatti loro. Ed ecco qua, siamo più rovinati di prima. Eravamo gli unici in campagna qua, proprio a Delcolano, che non tenevamo in qualche caso, ma stavamo tranquilli. Adesso siamo diventati i primi, i primi in tutta l'Italia. E lei crede che la sanità campana e quella nazionale sia all'altezza di sopperire ad un'eventuale seconda ondata? Io sinceramente dico di no. Dico di no perché non c'è nessun controllo fino adesso. Lo stiamo facendo noi e lo stiamo dicendo noi, però vai a Napoli e non ti controlla nessuno. Torni da fuori e nessuno ti fa il tambone. Tutte queste cose non sono controllate, non è vero. Napoli, sequestrati oltre 130 chili di hashish, arrestati due responsabili. La Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato un ingente carico di hashish pari ad oltre 130 chili, pronto per essere distribuito nelle diverse piazze di spaccio del capoluogo e della provincia. La sostanza era nascosta a bordo di un tir, che è stato ispezionato nel porto di Napoli, mediante l'impiego dei cani antidroga e l'utilizzo di una sofisticata apparecchiatura scanner. All'esito delle attività è stato individuato un doppio fondo artigianale, ricavato nel rimorchio del mezzo pesante, al cui interno erano stati nascosti gli involucri contenenti la droga. I due responsabili tratti in arresto si trovano ora presso il carcere di Poggio Reale. La sostanza stupefacente, analizzata, è risultata di ottima qualità, a differenza delle partite di hashish comunemente rinvenute sul territorio nazionale, considerata prodotto di nicchia tra gli assuntori della sostanza. Se immessa nel mercato, la droga avrebbe assicurato alla criminalità organizzata un enorme profitto, pari a circa 3 milioni di euro. Grande gioia per il rientro a scuola. Un arcobaleno ha accolto gli studenti dell'Istituto Falcone Scauda. Questa comunità ha voluto fare di un momento difficile la propria sfida. Con queste parole, alle telecamere di TV City, la dirigente scolastica Maria Iosea Abilitato ha espresso le sue emozioni, non dimenticando i mesi difficili del lockdown. Preside Abilitato, finalmente, dopo tanti rinvii, dopo tanta attesa, si ricomincia. Quali sono state le sue sensazioni? È stata un'emozione profonda, un'emozione sincera per il rientro dei nostri giovani e accompagnati dalle loro famiglie. Abbiamo concretizzato in un momento le sensazioni, i sentimenti. Abbiamo focalizzato l'isolamento dei mesi scorsi e in un momento liberatorio ci ha accompagnato un arcobaleno, l'immagine di un arcobaleno, perché abbiamo voluto pensare al futuro, a come la nostra scuola garantisce il rientro in sicurezza dei nostri giovani. Sono stati mesi frenetici, mesi che ci hanno toccato profondamente in maniera personale, individuale, nelle nostre famiglie e anche la scuola ha vissuto momenti di scoramento, momenti di preoccupazione. Ma questa comunità ha voluto fare di un momento difficile la propria sfida. Fondando sulla collaborazione di tutti, docenti, personale della scuola e delle famiglie che ci sono state vicino, siamo riusciti ad assicurare, ad organizzare una scuola funzionante per tutti i giorni della settimana, per l'intero orario, fin dalla scuola dell'infanzia. Quindi scuola primaria, scuola secondaria. Che anno scolastico sarà, secondo lei? Sarà un anno complesso, ma quando ci sono difficoltà, la scuola affronta le sfide. E in generale, come lo è stato ad esempio quando siamo stati chiamati ad attivare percorsi di didattica a distanza, e abbiamo raggiunto un buon livello, ma un buon livello nel senso che siamo cambiati noi. Abbiamo cambiato il nostro modo di fare scuola. Io ritengo che forti di queste esperienze passate, noi oggi affrontiamo il presente, rassicurando, affrontando insieme le difficoltà che ci saranno, senz'altro, ma pronti a fare squadra per realizzare quel pensato, quel progettato che fa di una scuola il vero ambiente per l'apprendimento. La scuola ha messo in atto tutte le procedure dettate dal governo e le misure di prevenzione per evitare il contagio da Covid-19. Con la collaborazione dei genitori, riflettendo, decidendo, definendo insieme, siamo riusciti a portare a scuola tutti i nostri alunni. E per me questo è una soddisfazione perché rappresenta l'operato di una comunità che io mi onoro di rappresentare, di elevato spessore, professionale, culturale, ma soprattutto umano. Infine, un augurio a tutti i ragazzi che cominciano la scuola. Ragazzi, voi siete più bravi di noi. Lo avete dimostrato durante il periodo più difficile. Rimanere a casa non davvero per voi è stato un sacrificio. Continuate così. Continuate così perché solo insieme possiamo vincere, possiamo vincere l'incubo, possiamo vincere l'intruso che ci pervade e seguendo la linea del nostro progetto di quest'anno, l'area da cui noi partiamo e a cui è fondamentale per la nostra vita, quell'area che in molti casi trasporta il virus, trasmette il virus. Ecco, ritorniamo a respirare quell'area in maniera profonda, in maniera vera, in modo da realizzare davvero le nostre personalità. Auguri a tutti, a tutti i giovani di Torre del Greco, a tutti i giovani del mondo. Sensibilizzare i cittadini sui fenomeni sempre più diffusi dell'abbandono e del maltrattamento sugli animali. Questo lo scopo dell'iniziativa di domani, sabato 10 ottobre, Enjoy Herculaneum, promossa dal Rotaract Club Torre del Greco, comuni vesuviani. Alle ore 15 avrà luogo una visita guidata al Parco archeologico di Ercolano, un viaggio nella storia per riscoprire tutto il fascino della vita romana. Il ricavato dell'evento sarà devoluto al rifugio Mau di Portici e all'Associazione Gli Angeli Randaggi del Vesuvio di Torre del Greco. Abbiamo organizzato assieme ad altri sei club una visita guidata agli scavi di Ercolano per raccogliere dei fondi ed aiutare l'associazione il rifugio Mau di Portici e l'associazione Gli Angeli Randaggi del Vesuvio di Torre del Greco. Queste due associazioni si occupano di aiutare i nostri amici a quattro zampe per ricordarci sempre di loro e per appunto non abbandonarli. In particolar modo con la raccolta che faremo doneremo a loro delle pappe, quindi il cibo per questi animali e poi delle spese mediche che sosterranno queste associazioni. Quindi maggiormente il nostro obiettivo è cercare di sensibilizzare l'abbandono di questi animali che purtroppo nelle nostre zone spesso vengono abbandonati. Per Aspera ad Astra è il motto dell'associazione composta da un gruppo di giovani torresi uniti dall'obiettivo comune di mettersi al servizio del territorio mediante la realizzazione di iniziative. Il mio motto anche che porto avanti quest'anno è Per Aspera ad Astra che significa appunto attraverso le difficoltà per arrivare alle stelle. Quindi noi vogliamo assolutamente soprattutto in questo periodo di difficoltà arrivare alle stelle e quindi cercare di dare il massimo e di essere soddisfatti del nostro operato. Quali saranno le prossime iniziative della vostra associazione? Noi abbiamo diverse iniziative e infatti la nostra associazione mira soprattutto a fare service. Il service per noi è importante perché noi siamo al servizio del nostro territorio assieme ad altri club. Abbiamo come iniziative quelle maggiormente telematiche perché non possiamo oggi purtroppo fare diversi eventi in presenza e quindi ci limitano un po' come associazione. Però noi andremo avanti ugualmente sia per la formazione dei ragazzi professionale ma anche personale. Per chi vorrà prendere parte all'evento sarà assolutamente imprescindibile compilare il form poiché l'accesso è a numero contingentato nel rispetto dei protocolli anti-covid-19. Sulle nostre pagine Facebook e Instagram dei vari club che partecipano appunto all'organizzazione di questo evento è possibile iscriversi a un form dedicato all'evento e appunto l'incontro è agli scavi di Ercolano sicuramente entreremo in gruppi ridotti perché le normative attuali prevedono appunto un distanziamento e noi diciamo intendiamo seguirle assolutamente e quindi appunto tramite le nostre pagine si compila il form in loco diciamo ci saremo noi ad aspettare le persone interessate e poi sarà un piacere guidarvi all'interno dei scavi. Ricordiamo quali sono i contatti? I contatti appunto sono sulla pagina Instagram del Rotaract Club Torre del Greco Comuni Vesuviani e sulla pagina Facebook Rotaract Torre del Greco Comuni Vesuviani. Posticipo di Serie C Girone C che vede impegnata la Turris nella trasferta contro il Bisceglie. Partita prevista inizialmente per le ore 17.30 di domenica 11 ottobre ma che si giocherà in serata alle ore 20. Le due squadre si ritrovano contro dopo quasi quattro anni con l'ultimo precedente datato 17 aprile 2016 favorevole ai torresi che si imposero per 2 a 1. Domenica sera il calcio d'inizio con i biancorossi che dovranno confermarsi in una trasferta non semplice con un Bisceglie alla ricerca dei primi punti stagionali e che non hanno ancora esordito in campionato. In occasione del match mister Fabiano potrebbe riproporre il 4-3-1-2 intravisto già nei precedenti impegni contro Virtus Francavilla e Viterbese. Sicuro alla riconferma di Abbagnale in porta e del centrocampista Daniele Franco che ha brillato nel 2-1 casalingo contro la Viterbese. Al centro della difesa ballottaggio tra Dinunzio e Lorenzini per una maglia da titolare formazione che non dovrebbe variare per il resto. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete scriverci all'email redazionechiocciolatipusiti.it o chiamare al numero 340 6561 484. Buon fine settimana a tutti. Appuntamento a lunedì con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti